si trattava della nostra brigitte uber allenata da haike nettschmidt sono parte del gruppo femminile di milligen e il suo hobby è la musica elisa biancovska la ginnasta polacca diciottenne nata nel mese di luglio abbiamo visto la boda nell'esercizio con la cordicella ha iniziato l'attività competitiva nel 1980 è una ginnasta d'esperienza infatti conta al suo archivo già parecchie partecipazioni alle grandi competizioni internazionali musica greca ad accompagnare l'esercizio di elisa biancovska grazie a tutti Grazie.